Perché la parte in della persona, sia che abbia liberato o no, la parte in della persona è la più delicata del corpo umano. Per ine si intende, vedete abbiamo vele, osso, arterie, vele. Io parlo di grandi ciculti, non piccoli ciculti, chiaramente. Osso, arterie, tensione. Chiunque ha fatto pronto soccorso capisce che lo sto dicendo, si ha fatto pronto intervento. C'è una differenza enorme fra rompersi qui e rompersi qua. Qua si parla di due minuti, si perde la vista e si muore. Prima si perde proprio gli occhi, due minuti. Se mettete la mano, non si ferma. Se mettete la mano, non si ferma, perché le arterie impulsano. La vena no? C'è un'azione, è un'ostante. Il creatore, o la natura, l'ha fatto anche bene. Perché la parte delicata di noi è coperta dalle ossa e poi da una struttura muscolare più alta. Spontaneamente, quando prendiamo un sacco di botte, che mettiamo così, è vero che qua è mortale, è vero che lo sto sacrofomale, è vero che la nuca è mortale, ma è anche vero che stiamo chiudendo tutta la zona in, che è quella che è senz'altro mortale. Capite cosa voglio dire? Lo facciamo spontaneamente. Prende il calcio nel sedere, il calcio nelle coste, non è come prenderli nelle lingue, non è come prenderli in gole, non è come prenderli nel pezzo colare. Quando ieri i ragazzi facevano già cucciuchi, in varia maniera ho visto, lineare, con la polarità e con la massa, quello è un colpo che devi uccidere. Quello mi incina, quello si chiama fermare il cuore, sta o si infatti, quando dai quel colpo l'uomo, non è che lo dai così, quello è un colpo che uccidi. Nello spirito, chiaramente, l'atteggiamento è che tu colpisci il tuo essere solare e per riflesso il cuore si ferma. Ah, per riflesso, nello shock, shock nervoso, si può morire di un colpo al tuo essere solare senza l'idio. Grazie.